Il brano in programma, e l'ultimo brano chiude la trasmissione l'amico Salvatore Solinas, sempre con Giampaolo Loddo, ecco, è Santro. Salvatore Solinas vi farà ascoltare un bellissimo brano. Vuoi dirlo tu almeno il titolo di questo brano? Il titolo è una canzone napoletana dal titolo Guapparia, che dedico a tutti gli ascoltatori di Radio Giulia. Salvatore Solinas vi farà ascoltare un bellissimo brano. Che avendo la giù bella d'attascata, la giù d'ortà d'occappi un concertino, così insieme fa sempre cantare. Ma ci ho bevuto un bicchiere vino, e che stanotte a voglio intusseccar. scelta a voglio intusseccar. e che stanotte 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 a voglio intusseccar. che Butcheria Perché a chitarra non se fa sentire. ma con che anne tutto di un certino. o me se vese, a che anne destino, Che ogni è no sti guaglione e malavita